Tribù rossonera, amici di ogni dove e amici di ogni squadra, bentornati a un nuovo appuntamento con il Marietto Milanista. Oggi ho fatto un video abbastanza ironico, chiaramente su una semiparodia di Ibra con gli interisti, i juventini, quindi che non me ne vogliano a male perché lo sfotto fa parte anche del calcio, qua nessuno vuole offendere nessuno, rimaniamo sempre comunque nell'ambito dello scherzo, quindi non vi dovete offendere assolutamente, anche perché io di queste cose con i miei amici interisti, juventini, cioè veramente ne facciamone diciamo di tutti i colori da secoli, ma è questo anche un po' il sale e il pepe diciamo del calcio. Però diciamo che il video di questa sera io l'ho incentrato sulla forza, sull'organizzazione, sulla veramente capacità di una società, come in questo caso sto parlando dell'Atalanta, veramente in aver creato un vero miracolo. L'Atalanta in questo momento è il bello del calcio italiano, è il bello, perché è una squadra bella da vedersi, è da anni che siamo veramente incantati di vedere questo gioco di Gasperini, questo 3-5-2 collaudatissimo, negli anni cambia un pezzo, piglia l'altro, ma perché c'è un'intelligenza dietro, di strategia importantissima. La società già dalle giovanili prende giocatori che poi si possono adattare a un certo tipo di mentalità. Sono usciti negli ultimi anni, anche per noi nel Milano, i vari Andrea Conti, i vari Franchesi, se non sbaglio anche Caldara, che è la situazione che abbiamo adesso di Caldara, è quella che è, però per dire, in questi anni hanno tirato fuori sempre bei giocatori, la primavera lotta tutti gli anni per vincere lo Scudetto, veramente ha un settore giovanile che da anni, ma io mi ricordo già da quando ero ragazzo, sempre l'Atalanta era vista come un settore giovanile molto forte, insieme a quelli del Torino, sono tra i due forse più forti in Italia, in questo momento anche l'Inter comunque ha un ottimo settore giovanile. Il Milan è in una fase di ripresa, però ha avuto un grande settore giovanile, adesso è una fase di ripresa probabilmente. Però tornando all'Atalanta, l'Atalanta non è adesso, sono già anni che c'è una programmazione dietro a queste vittorie, quindi non vengono dal caso. Cioè l'orchestra sinfonica che ha creato Gasperini, dove c'ha veramente dei giocatori chiave in ogni ruolo, io inizio proprio dal leader, che è il Papu Gomez, il Papu Gomez è una pedina fondamentale nel gioco, anche nelle relazioni che c'ha con i compagni, è come se fosse lo zio di tutti, cioè veramente l'uomo d'esperienza che veramente sta facendo intorno a sé il fulcro di una squadra di grandi giovani ragazzi e grandi promesse. C'è un Gosens che quest'anno è spettacolare, è esploso in una maniera impressionante, lì sulla sinistra mi ricorda veramente tanto Cavallopazzo e Hernández, sono due giocatori molto simili nel modo di giocare, sulla faccia vanno come dei treni. A destra il giocatore che avevo proposto al posto di Caldara, uno dei tre, che è Timothy Castagne. Castagne è fortissimo anche lui, ma senza dimenticarci, poi anche uno dice giocatori che non sconosciuti, Atteber, Palomino, Pasalic che hanno preso l'oro, si è rigenerato completamente, ma davanti hanno Zapata che finché non aveva l'infortunio segnava ripetizione, poi è entrato Mure e anche lui i suoi goli ha fatti ed è un ottimo rincalzo. Cioè stiamo parlando di una squadra veramente potente in ogni settore e veramente tanto di cappello a tutti coloro che hanno fatto sì che in questo momento l'Atalanta è arrivata a un sogno, cioè arrivare agli ottavi di Champions, che se la può giocare, io vivo qua in Spagna e vedo il Valencia, l'Atalanta ha tutti i mezzi per passare il turno col Valencia, ma veramente, cioè può andare ai quarti di finale. Questa qui è una bellissima realtà che mi ricorda molto negli ultimi anni l'Ajax, che anche l'Ajax ha fatto un gioco, mi ricordo l'anno scorso, allo Juventus Stadium c'è stato un momento in cui non gli stava facendo capire niente alla Juve, cioè veramente era un tic-tac, tic-tac, un tic-tac impressionante. Quindi in questo video, come vedete, io sono una persona molto sportiva, io riconosco che anche se l'Atalanta è una rivale, una grandissima rivale, cioè veramente, devo riconoscere che in questo momento è la bellezza del calcio italiano, cioè veramente in Europa è la squadra che sta veramente rappresentando il bel gioco italiano con un tecnico italiano come Gasperini. Quindi veramente tanto di cappello all'Atalanta. E detto questo, ragazzi, per stasera è così, ci sentiamo domani in un altro video, mi raccomando, continuate a iscrivervi al canale, sulla campanellina mettete, non personalizza, mettete che sempre ogni video che entra del Marietto lo avete già che vi sale lì sullo schermo, così possiamo continuare a rimanere in contatto e creare ancora sempre di più questa bellissima comunicazione, anzi ringrazio tantissimi ragazzi che mi stanno scrivendo già da un pezzo, io sono veramente contento, stiamo arrivando quasi a 300 iscritti, non è neanche un mese che ha il canale, e quindi io, a parte dirvi grazie, grazie, grazie ai nuovi anche iscritti, sicuramente se voi mi volete iscrivere, volete che io vi saluti in qualche video, dovete solo farlo, per me non c'è nessun problema, perché siete davvero dei grandi. Quindi dal Marietto Milanista, sempre col mio cuore rosso-nero, io do veramente tutta la mia stima, la mia ammirazione all'Atalanta, come ho detto in questo video, però io sono milanista e come sempre Forza Milan ovunque e ovunque, ci vediamo domani, ciao!